Bella a tutti asfaltoni, benvenuti e bentrovati su Leontube eccoci in questo video per andare a riscattare un nuovo codice fresco fresco di quest'oggi, andiamo subito a scriverlo, andiamo qui, usa il codice e iniziamo a scrivere S maiuscola, M minuscola poi ancora maiuscole, la F 4 e poi K maiuscola andiamo a SH minuscole e una B maiuscola ok non mi ha preso la S e la H, andiamo indietro SH minuscole, ok andiamolo a rileggere S maiuscolo, M minuscolo, F maiuscolo, 4K maiuscolo S ed H minuscole, B maiuscole andiamo subito a riscattare il nostro premio eccolo qua, pronti per ritirarlo 100 gettoni tutti belli freschi per noi se il video vi è piaciuto, vi è stato utile, mi raccomando mettete un bel mi piace, condividetelo con i vostri amici nei vostri social non dimenticate di lasciare un commento e come sempre, se vi va, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti